A due di tutto, anno 1983, Gigi Sabani se la prende con Enzo Tortora e restituisce un po' lo stile lezioso e forbito del presentatore Ligure in questo frammento così veloce, così rapido. Purtroppo una destino simile scomparsi entrambi prematuramente. Gigi Sabani. Occhi al gioco inchinando di contento l'agilopra dell'uomo grave secondi. Vi prego, vi consento, vi perdono. Ehi tesorta e ti punge. E tu, e tu. Signora Turina la prego per favore. E tu, dico, con lento giro dei pazienti occhi, rispondi... Orrore! E Gigi Sabani, Ipi! Hurra!